Il Covid uccide ancora, in Irpinia, altre due le vittime al Moscati a perdere la vita, un 84enne di Genzano della Lucania e Modestino Iannaccone, 81 anni, storico elettrauto del capoluogo, decano dell'artigianato avellinese. Modestino Iannaccone si è spento nella terapia intensiva dell'area Covid del Moscati. Se ne va un pezzo di storia, commentano addolorati i commercianti di via Circonvallazione, dove da sempre Modestino ha lavorato sodo nella sua attività diventando punto di riferimento assoluto nel settore. È stato un esempio per tutti noi qua a via Circonvallazione, diciamo che è una grandissima perdita. Io lo consideravo come un padre perché sono 32 anni che sto vicino a lui, mai ho avuto una ghiacchia, c'è sempre una persona disponibile, certamente mi piange il cuore. Modestino è il rappresentante principale di tutti i meccanici elettratici di Avellino e non c'è nessuno che può dire che non sia vero, che non è così. Purtroppo adesso non ci resta che salutarlo nei migliori dei modi, come almeno lui avrebbe voluto. Iannaccone era vaccinato e morto per le complicanze dovute al coronavirus subentrate durante il periodo riabilitativo in una struttura irpina dopo aver superato un delicato intervento al cuore eseguito al Moscati, di qui il ritorno in ospedale e il ricovero nella Palazzina Alpi del Moscati il 3 gennaio fino al peggioramento dello scorso sabato. Intanto il coronavirus avanza in Irpini, altri 483 i casi contabilizzati dall'ASL. Su 2892 tamponi processati, 78 i casi scovati ad Avellino, 20 ad Avella. Altrettanti a Mugnano, 21 a Rotondi, 23 a Solofra, per citare i comuni con più contagi. Certificati o domicili, 2G tradesmanin, 24 a Solofra. Altrettanti a Mugnano, 21 a Bluena, 24 a Solofra Martin produto che bisognит una struttura irpina